Un saluto dal Tg della mobilità via Santo Stefano Rotondo è chiuso al transito veicolare per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale. Le linee 117 e 117D da piazza San Giovanni in Laterano transitano lungo via dell'Ambra Dam e via della Navicella, sospesa la fermata in via di Santo Stefano Rotondo. E lavori stradali notturni e modifica la viabilità anche in via Ostienze dalle 22 alle 6 tra l'incrocio con via delle Sette Chiese e il sottopasso di via Le Guglielmo Marconi. Il termine dei lavori è previsto per il 24 novembre. Ci sarà il divieto di sosta in zona rimozione H24 su tutta la sede stradale e in corrispondenza delle aree di cantiere, limite di velocità di 30 km orari, senso unico alternato e restringimento di carreggiata. E tutto appuntamento alla prossima edizione.